Ciao, benvenuti su Cartisia. Oggi vi propongo la crema marocchina alle melanzane, una vera e propria delizia. Ideale da mangiare con i crostini oppure con il pane tostato, ma buonissima anche come condimento per la pasta. Se la provate, mi raccomando, lasciatemi un commento e fatemi sapere cosa ne pensate. Utilizzo tre melanzane, queste pesano complessivamente a 900 grammi. Tagliate le vostre melanzane a tocchetti, come vedete in video, e poi li mettete in una ciotola oppure non con la pasta e versate un cucchiaino di sale. Amalgamate benissimo il sale con le melanzane e mettete la ciotola da parte e li fate riposare per circa 20 minuti. Vi serviranno dei pomodori, io utilizzo quattro pomodori, ma in teoria vi serviranno almeno 300 grammi di pomodori. Io avevo quattro pomodori in frigo e ho utilizzato quelli. Quindi tagliate i vostri pomodori, li mettete all'interno di una pentola e poi vi servirà anche l'aglio. Io ho messo solo uno spicchio d'aglio perché ovviamente ho personalizzato la ricetta, però se volete potete mettere anche tre spicchi d'aglio perché la ricetta originale prevede fino a tre spicchi d'aglio. Io ho preferito sinceramente mettere solo uno spicchio d'aglio. Quindi vado a tagliare l'aglio e lo metto all'interno della pentola insieme alle melanzane e ai pomodori. Benissimo, una volta che abbiamo inserito anche l'aglio, dobbiamo personalizzare la nostra crema marocchina. Potete utilizzare le spezie che vi piacciono di più. Io ho utilizzato il prezzemolo secco, che comunque viene previsto dalla ricetta marocchina, però potete utilizzare se volete il prezzemolo fresco. Pepe nero macinato, il curry che a me piace davvero tantissimo e poi alla fine ho utilizzato anche l'origano. Mi raccomando, dovete dosare bene la miscela delle spezie senza esagerare. 40 ml di olio di semi di girasole oppure potete mettere l'olio extravergine di oliva. E infine 80 ml di acqua naturale. Amalgamate bene il tutto e passate i fornelli con una fiamma medio-bassa. Benissimo, facciamo cuocere la nostra crema marocchinale melanzane per circa 30 minuti. Mi raccomando ragazzi, ogni 5 minuti di cottura alzate il coperchio e amalgamate bene il tutto. Dopo 30 minuti inserisco mezzo limone all'interno della mia pentola e faccio cuocere ancora per 10 minuti. Dopo 10 minuti potete spegnere la fiamma, la vostra crema marocchina è pronta. Ovviamente se volete il limone lo potete togliere. Ragazzi che dirvi, è una crema facilissima da realizzare, ragazzi è buonissima sui crostini o sul pane tostato. Provatela e fatemi sapere cosa ne pensate. Vi aspetto sul mio canale YouTube Cartesia, mi raccomando iscrivetevi perché ci sono in arrivo tantissime videorecette super golose e tantissime altre videorecette vi aspettano. Mi raccomando, ciao alla prossima, baci da Cartesia.